Buonasera, ben ritrovati al telegiornale di Telefriuli. L'informazione delle 19 restano stabili, ma critiche le condizioni dello sci alpinista Michele Fedele, 41 anni di Ovaro, travolto ieri mattina dalla Slavina che si è staccata nel gruppo del Monte Canin, nelle Alpi Giulie, tra il Monte Golovec e Sella Prevala, a una quota di circa 2200 metri nel tratto che collega lo Sperone del Medon alla Sella. Ricoverato in terapia intensiva del reparto di cardiochirurgica dell'ospedale Santa Maria della Mesecoria di Udine, lo scelatore ha trascorso una notte relativamente tranquilla sotto il costante monitoraggio dei sanitari che ieri pomeriggio all'arrivo in ospedale e lo hanno sottoposto alla procedura per riportare la temperatura corporea a valori normali. Lo sci alpinista era stato estratto dalla Slavina in stato di incoscienza e in ipotermia. La prognosi rimane riservata. La cronaca, enesimo maxifurto di pannelli fotovoltaici, inferiore l'ultimo colpo che ha fruttato, stando alle prime stime e verifiche più accurate, sono in corso. Un bottino di circa 70 mila euro è stato messo a segno durante il primo weekend di febbraio a Corno di Rosazzo, nella zona di Via dei Longobardi, in un terreno di proprietà di un'azienda con sede a San Giovanni al Natisone. Sull'accaduto ora stanno indagando i carabinieri della compagnia di Palmanova, che sono stati avvertiti da uno dei responsabili dell'impianto. L'uomo, infatti, si era accorto della mancanza di numerosi pannelli dal tetto dello stabile. I militari hanno effettuato un sopralluogo a Corno di Rosazzo e hanno rilevato che i malviventi sono riusciti a portarsi via oltre 300 pannelli. Questa mattina si è celebrata la cerimonia ufficiale del 72esimo anniversario dell'Eccidio di Porzus. Quella di oggi è stata definita la Domenica della Pacificazione, tra i fazzoletti verdi dell'Ausopo e i fazzoletti rossi della Garibaldi in Natisone. La democrazia non è un dono ma una conquista. A dirlo il sindaco di Fedis, Claudio Zani, alla cerimonia ufficiale del 72esimo anniversario dell'Eccidio di Porzus, alla quale hanno partecipato per il governo il sottosegretario della difesa, Domenico Rossi, per la regione Friuli Venezia Giulia la presidente Deborah Seracchiani e per la prima volta anche una delegazione dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, guidata dal presidente regionale Dino Spanghero. Bravi, bravi partigiani dell'Ampi, oggi venuti su qui a Porzus. Quella di oggi è stata definita la Domenica della Pacificazione, tra i fazzoletti verdi dell'Ausopo e i fazzoletti rossi della Garibaldi in Natisone, divisi dalle responsabilità dell'Eccidio di Porzus. 17 partigiani dell'Ausopo vennero trucidati dai gabbisti comunisti di Mario Tofanin e in questi decenni sempre divisi alle varie manifestazioni di ricordo della resistenza. Rossi ha consegnato quattro medaglie ad altrettanti partigiani, mentre la presidente Seracchiani ha sottolineato l'importanza dell'accessione delle marghe di Porzus, incomodato d'uso all'Associazione Partigiani Osopo per la loro valorizzazione. Tutta la comunità regionale ha bisogno di esempi come il vostro. Viva la democrazia, viva la Repubblica, viva la libertà. La manifestazione si è conclusa con la celebrazione della messa da parte di Don Gianni Arduini nella frazione Canebola di Faedis. Si riaccendono gli animi dei lavoratori del trasporto locale dopo l'assegnazione del servizio alla Scarl TPL Friuli Venezia Giulia temono riduzione di organico e incremento dei carichi di lavoro. L'assegnazione dell'appalto del servizio di trasporto alla Scarl TPL riaccende gli animi degli autoferrotranvieri del Friuli Venezia Giulia che da tempo stanno manifestando disagio a seguito della situazione lavorativa ma soprattutto riguardo al carico di lavoro che è sempre più impegnativo rispetto ai colleghi delle altre regioni. Secondo l'USB il carico sarebbe doppio se non triplo rispetto ad altre città italiane con un orario lavorativo che arriva anche a 12-13 ore di impegno giornaliero con oltre 7 ore di guida continuativa. Ma a fronte di una produttività così alta la paga sarebbe al di sotto dei livelli nazionali. Ora si è aggiunto a un'ulteriore preoccupazione spiega il referente di USB Willy Puglia a seguito dell'attribuzione del servizio di trasporto regionale a un gestore unico per i prossimi 10 anni. Nonostante le parole dell'assessore regionale Santoro noi non ci sentiamo per nulla rassicurati, continua Puglia poiché si sta ripresentando un film già visto 15 anni fa dopo la prima gara europea d'appalto che ha prodotto un peggioramento generalizzato del trattamento per i lavoratori senza comportare significativi vantaggi per l'utenza e per la cittadinanza. La regione risparmierà 12 milioni di euro all'anno ma USB non si spiega come sarà possibile per le aziende costretta ad aggiungere chilometri in più di servizio riuscire a far quadrare i bilanci. Il sindacato è convinto che le aziende andranno a intervenire riducendo il costo del lavoro oggi rappresentato per il 70% dalle buste paga del personale. Ridurre il costo del lavoro, conclude Puglia vuol dire da un lato bloccare le buste paga e dall'altro aumentare ulteriormente il carico di lavoro e individuare possibilmente centinaia di esuberi anche tra i conducenti di linea. È una comunità linguistica ma anche una comunità operante caratterizzata da un'unità di visione complessiva della società fiulana e della realtà del Friuli Venezia Giulia questo è quello che sono i 102 sindaci della comunità linguistica fiulana sull'inizio capace di superare gli ostacoli della burocrazia per perseguire la crescita, lo sviluppo della nostra società e della cultura del territorio. Lo ha affermato il vicepresidente della regione Sergio Bolzonello intervenendo ieri alla prima assemblea generale della comunità linguistica fiulana svoltasi a Udine nella sala Iace del palazzo municipale. In questa comunità ha aggiunto il vicepresidente della regione nel ringraziare gli ideatori della comunità dal presidente Niego Navarria al consigliere regionale Claudio Violino promotore della proposta di legge che all'epoca è stata votata anche dallo stesso vicepresidente della regione siamo orgogliosi di sentirci fiulani e ci dobbiamo adoperare perché anche altri primi cittadini sappiano compiere questo passaggio. In Friuli Venezia Giulia diminuiscono i traumi gravi da incidente stradale ma sono in aumento quelli che derivano da incidenti domestici sui posti di lavoro e quanto emerge dal congresso dedicato al tema dell'instabilità vertebrale organizzato nel capologo friulano dalla struttura di chirurgia vertebro middellare e unità spinale all'ospedale di Udine. Il 98% dei friulani almeno una volta nella vita ha sofferto di mal di schiena. La patologia diventa cronica in un terzo della popolazione. Il problema riguarda sia i giovani che conseguentemente perdono il posto di lavoro sia gli anziani che non riescono a essere autonomi nei movimenti. Parte da queste considerazioni la due giorni udinese dedicata a instabilità vertebrale, vecchi concetti, nuove idee e tecnologie che si svolge all'ambassador organizzata dalla dottoressa Barbara Cappelletto direttore della struttura operativa complessa di chirurgia vertebro middellare e unità spinale dell'ospedale di Udine. Obiettivo del simposio, che vede la partecipazione di specialisti neurochirurghi ortopedici italiani ed europei, è favorire il confronto e lo scambio di conoscenze ed esperienze sull'instabilità vertebrale di tipo degenerativo e traumatico. Cappelletto rileva tra l'altro che in Friuli Venezia Giulia sono diminuiti i traumi gravi che derivano dagli incidenti stradali, mentre sono in preoccupante aumento quelli sul lavoro e a casa. Spesso vi è la necessità di intervenire d'urgenza sui traumi cui esiti possono essere invalidanti in modo temporaneo e permanenti, in forma parziale o totale, con conseguenze sociali collettive e personali familiari, oltre che implicazioni psicologiche riabilitative di reintegro. Considerato che la tipologia del traumatizzato è cambiata, conclude Cappelletto, si deve lavorare maggiormente sulla prevenzione nei luoghi di lavoro e a casa. Ed ora ci spostiamo a Cividale del Friuli, dal bilancio demografico del Comune. Aggiornato a dicembre 2016, emergono diverse curiosità. La prima è rappresentata dalla classifica dei nomi più diffusi che vede nelle prime posizioni tra i maschi Andrea, Alessandro, Marco, Giuseppe e Paolo, mentre tra le femmine l'intramontabile Maria Supra del Granlunga il nome Anna e a seguire Francesca, Sara e Paola. La situazione economica con la crisi e il conseguente innalzamento degli indici di disoccupazione, spiega l'assessore ai servizi demografici Angela Zappulla, trova evidenza anche nei dati. Di particolare rilievo la diminuzione dei cittadini stranieri. Nel 2014 erano 980, mentre nel 2016 sono scesi a 873. La nazione più rappresentata è la Romania, con 153 residenti. Segue l'Albania con 124. e la Bosnia-Herzegovina, con 91 cittadini costante. Infine l'incremento dei civi d'alesi, scritta l'anagrafe degli italiani residenti all'estero nel 2016, erano 1023 contro i 1015 dell'anno precedente. Il Festival Maravè Ludo ritorna al mare con l'ultima mostra in programma. È stato inaugurato infatti il Ludo Park, un percorso interattivo, un viaggio visionario nel paesaggio marino che si dispana fuori stagione nello spazio chiuso della Trazza Mare di Lignano Sabbia d'Oro. Tra acqua e sabbia, giochi da tavola e da spiaggia, mette in scena un esperienziale scenario estivo innanzi alle vetrate esposte sull'orizzonte della spiaggia. Suddiviso in tre ambienti, ognuno dedicato all'opera di un artista e a specifiche categorie del gioco, il percorso espositivo accompagna il visitatore tra video, fotografie, gioco d'artista e dipinti. Il tutto animato dalle performance di giocoleria del gruppo Maravè Animazione che nel corso di inaugurazione ha messo in scena i giocolieri in un ludico dialogo gestuale con le opere e i visitatori. Maravè Ludo, alla quindicesima edizione del festival Maravè ideato e diretto da Sabrina Zanier, è gestito dall'Associazione Culturale Maravè con il sostegno dell'Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia e dall'azienda Gervasoni. Gabriele Lavi è tornato sul palco del Giovanni Daudine a 14 anni di distanza. Uno dei protagonisti più intensi e amati del teatro contemporaneo porta in scena una pièce di Luigi Pirandello, L'uomo con il fiore in bocca. La relatività delle cose, il senso del tempo e della fine, il difficile rapporto uomo-donna vissuti con il distacco dell'ironia, interpretato in scena unica da un uomo prossimo a morire e spinto perciò a rivedere ogni dettaglio della propria vita ed uno come tanti che vive un'esistenza convenzionale senza porsi il problema della morte. Questo è il canovaccio di L'uomo dal fiore in bocca e non solo. Titolo dello spettacolo è andato in scena al teatro nuovo Giovanni Daudine. Il cartellone della prosa segna un atteso ritorno a Udine di Gabriele Lavia, dopo 14 anni di assenza, quale interprete di un dramma ispirato al celebre atto unico di Pirandello, andato in scena per la prima volta nel febbraio 1922, con il nuovo allestimento firmato dalla Fondazione Teatro della Toscana in coproduzione con il Teatro Stabile di Genova per la regia ed interpretazione dello stesso Lavia, assieme a Michele De Maria e Barbara Alesse, i ruoli del dramma di Pirandello, l'uomo dal fiore in bocca ed il pacifico avventore, affidati rispettivamente a Lavia e De Maria, inglobano riferimenti e brani tratti da altre novelle del premio Nobel di Agrigento, senza tuttavia stravolgere il test originale. È l'incontro di due uomini che vivono in maniera completamente diversa il tempo, spiega fra le note di regia Gabriele Lavia. Uno vive la commedia della vita in modo lineare, mentre l'altro ha un tempo circolare che parte dalla morte e torna alla morte. C'è poi una donna che guarda ed è vissuta con l'assillo o l'incubo della moglie o della morte. La PS andrà in replica sino a sabato 4 febbraio. Il Centro Sportivo Educativo Nazionale del Friuli Venezia Giulia ha segnato i titoli regionali di karate per la stagione sportiva 2016 e lo ha fatto al termine del congresso regionale, in occasione del quale è stato rieletto all'unanimità l'attuale presidente Giuliano Clinori, già vicepresidente nazionale dell'ente. Sono stati diplomati i campioni regionali Xen, le cinture marrone e nere che hanno partecipato al circuito regionale di karate durante l'anno appena trascorso, ovvero il 2016, a consegnare ai giovani atleti il titolo, il sindaco di Udine Furionse e il collega di Pravis Domini, Davide Andretta. Con loro assieme a Clinori e anche i presidenti dei comitati provinciali dei quattro capoluoghi della regione, da Trieste Claudio Sacchari, da Gorizia Walter Tomaduz, per Pordenone Maurizio Lossole e per Udine Romeo Turra. In totale sono stati assegnati 57 titoli nella specialità di Cata che di Cumite, 16 invece le società che hanno partecipato al campionato per la classifica finale di società, anche quest'anno ha dovuto giudicarsi il primo posto la società Defense Karate 2000 di Pravis Domini. Vi ricordo che naturalmente per tutti gli approfondimenti legati al pareggio di oggi tra Chievo Udinese, appuntamento questa sera con replay a partire dalle 20.45, quindi le immagini, le interviste ai protagonisti, invece subito dopo la pubblicità, appuntamento con Massimo Radina e tutti i suoi ospiti per naturalmente tutte le immagini relative ai campionati dilettantistici svolti oggi. Grazie per l'attenzione, l'informazione torna domani mattina puntuale con ore 7. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.